ciao a tutti anime bentornati sul mio canale a tutti quanti un caloroso ringraziamento a tutti e un grande abbraccio veramente sia chi mi segue già da tanto e vi ringrazio veramente per le dimostrazioni di affetto che sono veramente strepitose grazie 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 a tutti quanti veramente di essere sempre così affettuosi e spero continuiate insomma a trovarvi bene qua sul canale perché come vedete di contenuti ce ne sono sempre tanti per chi è nuovo invito a guardare anche a cercare un sacco di contenuti tanti di crescita personale spirituale anche nelle playlist di questo canale e rinnovo l'invito a chi non l'avesse ancora fatto iscriversi a questo canale attivando la campanellina cliccando poi su tutte per ricevere appunto tutte le notifiche quindi oggi andiamo con un altro di contenuto molto importante un contenuto sacro un contenuto di luce un contenuto divino per voi in aggiunta a quelli che ci sono già ed è proprio un codice sacro e questo è dedicato all'arcangelo Uriel e il codice sacro si rivolge insomma allo sblocco all'attivazione proprio dell'abbondanza e prosperità potete unirlo anche agli altri contenuti che già fate ricordo brevemente che i codici sacri vanno recitati per 21 giorni in minimo 45 volte sempre il codice sempre quel numero per 45 volte ma almeno per 21 giorni passato il ventunesimo giorno se si è già verificato quello che volete potete anche fermarvi se non si è ancora verificato continuate a recitare il codice una volta al giorno finché non si sblocca la situazione sono proprio codici di altre dimensioni sono codici di luce sono dei linguaggi superiori perché se qualcuno chiede cos'è un codice sacro sono proprio delle frequenze vibratorie superiori dei linguaggi superiori e vengono proprio da altre dimensioni lavorano proprio questi codici contro le basse vibrazioni e vanno anche ad attivare con la recitazione poi degli schemi proprio di luce creano proprio uno schema di luce un'attivazione e quindi che cosa fanno rimuovono poi anche le vibrazioni negative quindi è molto utile comunque farlo sempre e aiutano a creare proprio uno stato mentale propositivo positivo ci si sente meglio anche se ancora non ha realizzato quello che diciamo vuoi o che vorresti però già la recitazione nel tempo me lo confermerà anche anzi fatemi sapere nei commenti chi già li sta facendo che già mi dicono mi sento meglio al di là della realizzazione o meno e quella poi per ognuno dipende da tanti fattori la velocità della realizzazione della manifestazione di qualcosa non è per nessuno uguale quindi ognuno è diverso però diciamo che già durante le recitazioni in questo periodo ci si sente proprio meglio questa è proprio l'energia che va a muovere appunto come dicevo prima questi questi codici di luce vanno a muovere proprio dei linguaggi superiori e fanno attivare proprio le energie quindi è buono già anche recitarlo come buona pratica allora qua vedete delle mie creazioni questa è la tovaglietta proprio dei messaggi divini che è associata a questo oracolo qua che vi farò poi una volta finito il codice sceglieremo una carta e ci sarà un messaggio per te però questo alla fine del codice le informazioni su di me per parlare con me e tutto quanto stanno nella descrizione del video quindi clicca la freccettina a destra che ti si apre proprio la tendina verso il basso e vedrai tutte le informazioni per le consulenze con me per visionare tutti i miei prodotti le mie creazioni le chiamo io perché è una passione i mazzi di oracoli che ho creato e tante informazioni così come per chi vuole la risposta a fronte di una piccola donazione su cofi.com allora la solita diciamo procedura vale sempre per tutti i codici sacri questa procedura quindi tre bei respiri profondi un attimo di concentrazione perché per questo codice sacro c'è da fare una richiesta iniziale che deve essere sempre quella la richiesta va fatta prima di iniziare il codice quindi ci si concentra si fanno tre respiri si fa la richiesta si ripete il codice per 45 volte finito va bene la richiesta va fatta sempre perché poi lo vedo dalle domande che ancora non è chiaro la richiesta si in quei codici che la richiedono non tutti ce l'hanno la richiesta questo ce l'ha però anche qui questa paura di sbagliare se avete una richiesta dal cuore la fate la richiesta dal cuore tanto il desiderio comunque dovete anche dirlo cos'è che volete perché fate il codice va bene potete essere anche standard nel senso sapete che questo codice sblocca abbondanza e prosperità allora chiedete arcangelo urie dammi abbondanza e prosperità se proprio no vogliamo dare l'intenzione io consiglio sempre di fare e di dare un'impronta energetica alla cosa di dare un'intenzione poi se magari qualche volta vi dimenticate non importa perché quello che è nella tua vita necessario in realtà l'universo gli esseri di luce lo sanno quindi non è che no allora di chi stiamo parlando qua parliamo di entità superiori quindi non è che c'è bisogno a un dio sbagliato qua c'era la virgola non ho detta cioè stiamo scherzando con le entità superiori queste cose non esistono quindi fate invece in modo anziché guardare quelle piccolezze lì che le cose vi vengano dal cuore perché quello sarà visto quello sarà tra virgolette giudicato e quello sarà ascoltato no anziché la paura di sbagliare fate le cose col cuore perché questa è la primissima condizione la primissima condizione per essere ascoltati dagli esseri di luce quindi iniziamo vi ho spiegato a cosa serve questo codice sacro che proprio per lo sblocco dell'abbondanza e della prosperità ed è rivolto ad un arcangelo questo codice qua che è il codice sacro 411 può essere detto anche 411 va bene io dirò 411 perché mi piace più così però a chi piace più risuona meglio 411 lo dica così 411 fate voi questa cosa potete ripeterlo sopra me o farvelo voi quando volete mattina pomeriggio o sera quando volete ma è una volta al giorno perché molti si confondono con le parole magiche quei video di parole magiche che ho sul mio canale quelle sì tre volte al giorno questo è il codice sacro ma anche il decreto no per esempio l'altro decreto dell'abbondanza queste cose una volta al giorno va bene non solo le parole magiche quelle hanno un altro schema questi codici sacri e decreti vanno bene una volta al giorno ma tutti i giorni per almeno 21 giorni allora facciamo tre respiri poi facciamo la richiesta e partiamo con il codice alla fine tiriamo giù una carta dell'oracolo arcangelo uriel ti chiedo di inviarmi abbondanza prosperità gioia e salute fai scendere la tua energia su di me e liberami da tutte le energie pesanti permetti alle energie di abbondanza e prosperità di aprire i canali e scorrere dentro di me è fatto è fatto è fatto grazie 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 411 411 411 411 411 411 411 411 4x1 1411 4x1 141141 1411 1411 1411 1411 1411 1 4 1 1 4 1 1 4 1 14 1 1 4 1 14 14 11 41 14 11 41 41 41 Wake up 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411, 411. molto bene quindi abbiamo ripetuto per 45 volte il codice sacro 411 all'arcangelo Uriel per l'abbondanza e la prosperità il giorno dopo domani lo rifate contate quante almeno insomma 21 giorni ve li scrivete da quando iniziate mettete la freccettina sull'ultimo giorno il ventunesimo è compreso ventunesimo compreso e poi vedete voi se volete continuare se ancora non si è sbloccata la cosa continuate quindi questo è l'importante mi raccomando allora adesso scegliamo una carta vediamo il messaggio oggi che ci vuole arrivare dai messaggi divini senza testimoni sulle carte scegli proprio la carta che ti piace la posizione e ne farò 4 oggi vediamo un po' cosa c'è da dire adesso qui la carta numero 1 la numero 2 la numero 3 e la numero 4 quindi scegli la carta 1 la 2 la 3 o la 4 questi sono messaggi che in questo momento sincronico in questo appuntamento così importante in questo momento di concentrazione abbiamo fatto anche il codice vediamo che energia c'è qua vediamo le parole per chi ha scelto la carta numero 1 vediamo qual è il messaggio divino lascia andare dedicati a qualcosa che ti piace rilassati 666 pensieri fuori equilibrio vai dentro di te qua c'è un monito qua c'è da stare attenti perché stiamo andando un po' fuori va bene ci siamo già fuori continueremo a andare fuori se non ci rilassiamo un po' bisogna riportare l'equilibrio proprio nei pensieri ci dicono qua vai dentro di te consigliata la meditazione molto a chi ha scelto la lettura numero 1 la carta numero 1 lascia andare ti dicono qua fai qualcosa che ti piace questo è anche il rompere le energie negative quando le rompiamo le rompiamo con una risata le rompiamo con una canzone e mettiamo quella canzone perché ci piace perché accendiamo vediamo un qualcosa una scena e ci fa ridere ecco questo è rompere le energie negative non rimanere in quel lugubro no in quell'uovo scuro di cose scure rilassati qui c'è da fare proprio un percorso di rilassamento va bene fai le cose belle che ti piacciono ti piace che ne so andare in una beauty farm a fare la sauna a fare non so il bagno turco la piscina le cose che ti fanno stare bene ti alzano l'energia qui ci sono dei pensieri proprio fuori equilibrio ci dicono quindi quando i pensieri fai fuori equilibrio anche il campo energetico lo segue perciò devi riequilibrare l'energia carta 1 va bene questo era per te la carta 2 vediamo il messaggio sei un seme stellare 001 0110 chiama la tua famiglia di luce questo è anche un codice dato dai galattici chiama la tua famiglia di luce qua c'è per chi ha scelto la carta numero 2 un messaggio proprio che ti chiedono loro proprio di chiamarli forse ti devono dare qualcosa dire qualcosa dare qualche informazione intendevo sei un seme stellare qua se qualcuno aveva qualche dubbio magari pensava non so sono un operatore di luce perché gli operatori di luce sono terrestri però magari aveva questo dubbio se poteva essere anche proprio di un'altra galassia di un'altra dimensione magari qui c'è arrivata una conferma poi ovviamente è un collettivo generale per carità però ricorda tutti che c'è la lettura la lettura dello starseed chi vuole vada sul mio sito e mi chiede informazioni per trovarvi proprio la provenienza è attivo il servizio chi vuole vada sul mio sito lo vede e vede come fare per potermi contattare per farsi proprio fare la lettura starseed quindi qua comunque a livello collettivo prendiamolo per un collettivo sei un seme stellare molti già lo sapranno sicuramente tanti magari non lo sanno quindi qua comunque c'è un messaggio sia che tu lo sappia o che non lo sappia ti chiede chiama la tua famiglia di luce anche qua sul mio canale ci sono dei video sui galattici andatele a vedere sia le canalizzazioni che i video con i comandi e i protocolli proprio da richiamare che richiamiamo i galattici per farci aiutare andate a vedere un po' sul mio canale quindi qua a lettura 2 chiamala la tua famiglia di luce chiamala proprio e digli ecco mi sono in ascolto cos'è che mi devi dire che informazioni avete per me qualcosa del genere falle venire da te le parole non aver paura di sbagliare falle venire da te stesso le parole da te stessa lettura 2 grazie andiamo avanti con la carta numero 3 le questioni terrene della terza dimensione sono illusorie ricordati chi sei ecco 0001 rafforzati ed evolvi ecco allora qua se qualcuno si sente non so magari parecchio giù per questioni pratiche eh sì chiamiamole col nome col nome proprio sono pratiche sono pratiche le questioni sono proprio illusorie quelle della terza dimensione perché sono quelle che ci a volte impediscono di andare verso proprio le dimensioni superiori perché perché ci sono talmente tanti problemi qua nella terza dimensione dove tutto è difficile no da manifestare quindi no bisogna ricordarsi chi siamo ricordatevelo quando siete sopraffatti dai problemi che qui è così ok qui è così e nella terza dimensione questo innalza l'energia innalza le vibrazioni perché riesci più a rompere questo 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 velo che abbiamo quando veniamo qua di dimenticanza proprio che ci dimentichiamo proprio chi siamo l'essere divini che siamo la divinità in noi ci scordiamo di tutto gli esseri ascesi insomma ma tutto proprio tutto quindi qui sappi che ti chiedono comunque oltre a ricordarti che è tutto un'illusione qua è tutta un'illusione ricordati chi sei perché sei un essere divino e hai tanto potere ricongiungiti con la tua parte spirituale per ritrovare la serenità se molti si sentono oppressi in questo momento che ascoltano c'è da rinforzarsi ed evolvere qua è anche una chiamata al tuo ricordarti chi sei all'essere divino che sei al potenziale che hai in realtà è un passo lì da te però non lo fai questa è un po' una chiamata ad un risveglio per quelli che ancora non sono nel pieno proprio dell'attività di risveglio questo è proprio per loro e magari è anche per chi è veramente soppresso oppresso scusate oppresso da tante tante situazioni difficili nella terza dimensione vita molto difficile magari li sarebbe da vedere anche il discorso carmico ma non è adesso questo il momento però ecco ogni tanto quando ti ricordi cerca di pensarci a questo che devi innalzarti devi rafforzarti ed evolverti come ti dice qua c'è un inizio 0 e 1 quindi devi andare su devi andare a crescere in sequenza ti sono usciti lo 0 e l'1 no andiamo avanti grazie carta numero 3 andiamo con l'ultima con la numero 4 tutto accade per una ragione anche se subito non ti è chiaro 8 7 5 vai avanti con coraggio ti dicono qua mi raccomando adesso se qualcosa non è molto chiaro in questo momento no hai vissuto ti sono capitate diverse situazioni carta numero 4 che magari sono state toste sono state difficili sappi che c'è una ragione anche se a volte non ce lo vogliamo sentir dire perché siamo arrabbiati perché comunque vediamo solo il problema in quel momento ma è normale è da terza dimensione una cosa così ma è normale per chi ancora vive molto nella terza dimensione come energia e quindi a volte ricordarci quando ci dicono no ma c'è un motivo a volte uno manderebbe a quel paese invece è vero è vero poi col seno di poi ci si arriva a capire questa cosa però a botta calda diciamo uno tende a dire non mi parlate non mi dite niente lo so che sarà pure che c'è una ragione ma in questo momento non voglio sentire niente non voglio sentire nessuno basta invece qua ti dice che te lo devi ricordare te lo devi mettere bene impresso nella mente per riuscire a superare i problemi difficili qua nella lettura numero 4 carta numero 4 perché ti dice vai avanti con coraggio quindi intanto ti esorta ad andare avanti non fermarti non stopparti non farti frenare non farti bloccare dalle vicende e dalle situazioni che ti stanno capitando che ti sono capitate anche se ancora in qualcuno di voi c'è un blocco dovuto alle cose passate no può venire dal passato può essere più attuale anche se il tempo ce l'abbiamo solo noi qua giù perché dall'altra parte il tempo non esiste ecco perché quindi adesso non è chiaro lettura numero 4 carta numero 4 però c'è un motivo per quello che ti sta accadendo che ti è accaduto e questo andrebbe compreso andrebbe capito tramite la meditazione tramite i registri akashici se vuoi c'è la meditazione gratuita per entrare nel tuo registro akashica è un altro contenuto di formazione di crescita spirituale che hai e personale che hai qui a disposizione gratuitamente sul mio canale prova a vedere nella cascia il motivo di tante cose forse ti sarà più chiaro dopo e ti si alleggerirà un po' il peso di tante cose che stai vivendo adesso va bene vai avanti con coraggio mi raccomando qua c'è un motivo sicuramente magari adesso ancora non lo comprendi ma il motivo c'è carta numero 4 io vi ringrazio tutti quanti al di là della carta grazie di seguirmi sempre ricordatevi codice sacro 411 arcangelo Uriel che l'arcangelo proprio ce l'abbiamo anche nei sette raggi andate a vedere i video dei sette raggi che ci aiuta proprio nell'abbondanza ci sono i decreti nei video dei raggi per aiutare proprio a chiedere a Uriel un'ulteriore richiesta fare proprio il decreto anche oltre al codice sacro dove ce l'abbiamo proprio nei video dei raggi chi mi segue chi fa questo percorso con me complimenti perché è un bel percorso veramente è tosto e veramente bravi a chi lo sta facendo a chi mi sta seguendo nei raggi con costanza veramente voglio fare proprio voglio applaudire perché è una cosa tosta il discorso dei raggi non è per tutti non è per tutti quindi anche se sarebbe bello sia per tutti però c'è chi chi ci arriverà magari più in là c'è chi ci arriverà dopo ognuno ci arriva quando è il momento no come si dice quando le cose devi vederle le vedi no quando le devi capire le capisci se non è il momento inutile quindi vi ricordo anche questa cosa che c'è il decreto dell'arcangelo Uriel proprio anche nei video dei sette raggi potarsi che già l'avete visto anche lo sapete quindi potete accumulare anche quel decreto con questo codice sacro va bene chi ancora non conosce bene qua sul canale si faccia un giro sulle playlist ci sono tanti discorsi e tanti lavori soprattutto pratici poche chiacchiere e molta praticità su questo canale dove si fa si fa si fa c'è concretezza ci sono risposte ci sono metodi per uscire dalle cose poi ovviamente per ognuno c'è il suo percorso quindi c'è chi chi esce fuori prima dalle situazioni e chi dopo ma prima o poi ci si esce fuori ok grazie mille vi aspetto presto qui sul mio canale fatemi sapere commentate ditemi dopo come vi trovate così come è successo negli altri codici sacri fate sapere anche agli altri sotto insomma le vostre esperienze come vi state trovando e vi aspetto presto sempre qui su quinta dimensione letture per un nuovo video insieme a me ciao a tutti e grazie